Le mete a Domenico di ritirare il suo foglio di partecipazione, la classe Domenico No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Dove faccia davvero così? Uno meno Vai, 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 vai Non è sempre Vai, vai, vai Vai, vai E vai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.